Come risolvere l'errore riguardo al JNA di Minecraft che non puoi avviare il gioco per l'errore dell'installazione quindi dobbiamo riprovare così ad aggiornare così la cartella di Java quindi in questo caso in descrizione ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare così questo driver la cartella che dobbiamo inserire nella cartella di Java quindi andiamo direttamente sul suo sito vai direttamente su Windows e troverai così il per 64 l'archivio, l'installazione, l'MSI, l'installazione quindi in questo caso andremo a scaricare così il pacchetto RAR una volta scaricato così il file zip, questo è il pacchetto RAR devi estrarlo con WinRAR quindi fai su WinRAR Extract to JDK22 Windows per 64 bin e ti uscirà così questa cartella una volta fatto tasto destro sopra fai copia andiamo direttamente su questo PC disco locale C scendi fino a giù fino a trovare programmi per 86 se lo tieni per 86 devi trovare la cartella di Java se non c'è per 86 vai su programmi scendi fino a giù ed ecco qua la cartella Java e lo inserisci qua inseriamo così la cartella JDK se non la tieni sul disco locale C puoi sempre trovarla sull'app data app data local e vedi se qua c'è la tua cartella Java quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore riguardo a Minecraft iscriviti, lasciate un like per altri problemi commenta sotto il video fammelo sapere e farò un'altra guida e vedrò di farci un'altra guida grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao